Torna a Torino dal 21 al 23 ottobre Io lavoro. La più importante fiera del lavoro italiana, nata nel 2005 da Unidea della provincia di Torino e giunta alla 19esima edizione, apre nuovamente i suoi stand negli spazi di Lingotto Fiere. L'evento, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e promosso dalla Regione Piemonte, è realizzato da Agenzia Piemonte Lavoro, in collaborazione tra gli altri con la città metropolitana di Torino. Insieme alla fiera del lavoro si terranno anche le competizioni di WorldSkill Piemonte, i campionati dei mestieri in cui 96 giovani studenti e apprendisti tra i 17 e i 24 anni si affronteranno per tre giorni in varie prove di abilità. Io lavoro si pone l'obiettivo di far incontrare i lavoratori e le aziende in tutti i settori. Per partecipare è obbligatorio registrarsi su www.iolavoro.org. La città metropolitana di Torino è presente a Io Lavoro con i centri per l'impiego, con lo sportello Alte Professionalità e grandi reclutamenti, con il collocamento Mirato Disabili, lo sportello Giovani ed infine con il MIP, Mettersi in Proprio. In un mercato del lavoro così difficile per i giovani, manifestazioni come Io Lavoro hanno una loro utilità? Senz'altro è una grande occasione di far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro, coloro i quali cercano lavoro, giovani e anche non giovani, e le imprese dei vari settori che sono a ricerca di nuovi occupati. È una grande occasione certamente da questo punto di vista, ma non solo perché è un'occasione di esperienza, di conoscenza, sono previsti workshop, seminari, incontri, e quindi è una grande occasione in cui si discute di lavoro, in un momento in cui vi sono alcuni finalmente lievi segnali di riprese, quindi è un'edizione molto importante questa che si apre oggi qui a Torino. Che cosa sono questi World Skill? È un movimento internazionale che raccoglie più di 50 paesi, ogni due anni organizza delle vere e proprie olimpiadi dei mestieri e l'Italia fino ad oggi era presente solo fino a poco tempo fa con la provincia di Bolzano, non casualmente perché è un movimento molto legato al sistema duale, all'alternanza scuola-lavoro. Da due anni il Piemonte, unica prima regione d'Italia, partecipa al movimento e questa volta organizziamo le selezioni su 11 mestieri per costruire la squadra italiana che parteciperà ai campionati europei. Perché è importante World Skill? Prima di tutto perché permette ai ragazzi che partecipano a queste gare di misurarsi con il mondo, quindi si misura su protocolli distintivi dei mestieri, di gare di abilità dei mestieri, che sono definiti a livello internazionale. Seconda cosa fa emergere la qualità di un sistema formativo, perché è un sistema formativo che si misura col mondo attraverso i suoi migliori giovani di talento e poi mette assieme giovani che partecipano alle gare, insegnanti, tutor e nel periodo di preparazione delle gare e delle gare questo mondo si apre alla conoscenza di quello che è un mondo che va fuori dai confini della regione.